La rapida approvazione della proposta di legge Brambilla, che consente l'iscrizione degli animali nella famiglia anagrafica, la riduzione degli oneri fiscali a carico dei proprietari e un serio impegno per la tutela dei diritti degli animali, tutti e in particolare il rapporto con quelli d'affezione, sono le principali richieste di chi ha partecipato alla manifestazione I nostri animali, una questione di famiglia che si è tenuta ieri a Milano, promossa dalla Presidente della Lega Italiana per la difesa degli animali e dell'ambiente, Onorevole Michela Vittoria Brambilla, con l'adesione di ben 23 associazioni animaliste, tra cui tutte le principali a livello nazionale. Gli animalisti uniti, spiega l'ex ministro, vogliono risultati concreti, primo tra tutti in attesa di una riforma costituzionale che riconosca gli animali come esseri senzienti, la tutela del rapporto tra le persone e gli animali d'affezione. L'iscrizione degli animali nella famiglia anagrafica, prevista da una proposta di legge il cui esame è già cominciato in Commissione Giustizia, è il primo passo verso il riconoscimento di tutele ormai indifferibili, come pene più severe per chi maltratta e uccide gli animali, e per una promozione davvero efficace del possesso responsabile, unico vero rimedio alla piaga del randaggismo che negli abbandoni e nella riproduzione incontrollata trova il proprio alimento. I manifestanti hanno chiesto un cambio di passo nel trattamento fiscale riservato a chi convive con un animale. Da questa possibile e auspicabile svolta culturale deriva anche l'esigenza di punire più severamente chi maltratta o uccide gli animali. In Italia ogni 55 minuti si apre un fascicolo per reati di questo tipo o simili, ma solo il 30% dei processi per maltrattamento di animali che viene celebrato si conclude con una sentenza e appena la metà prevede una condanna. Le sanzioni attuali non sono commisurate alla gravità dei fatti e non hanno effetto deterrente. Parliamo di pene fino a 5-6 anni per il maltrattamento e per l'uccisione, altrimenti ben poco cambierà. Infine c'è l'annoso tema dell'accesso ai luoghi pubblici e aperti al pubblico. L'assenza di una normativa nazionale chiara ed esaustiva e la giungla di leggi regionali e ordinanze comunali che complicano la vita di cittadini italiani e turisti con animali al seguito hanno prodotto una situazione intollerabile che richiede ora una risposta ragionevole ed equilibrata. Grazie a tutti.